Era appassionato di borsa e di mercati finanziari e si qualificava sui social come global advisor di un fondo di investimento collocato nella Repubblica di Malta. Peccato che non era iscritto ad alcun albo ne aveva i requisiti per operare sul mercato finanziario. A finire nei guai è stato un 50enne dipendente pubblico della provincia di Pesaro Urbino scoperto dalle fiamme gialle di Pesaro e denunciato per il reato di abusivismo. Durante l'operazione denominata Fondo Sospetto la Guardia di Finanza ha notato anomale movimentazioni nei conti correnti da lui utilizzati con numerosi e ingenti flussi monetari in entrata ed uscita collegati ad operazioni di scambio online di criptovalute non coerenti con il profilo finanziario di un pubblico impiegato. Tra il 2016 e il 2019 secondo i militari il cinquantenne avrebbe affittato il gestito il fondo maltese offrendo servizi e attività di investimento anche per conto terzi. Il tutto in modo abusivo perché è privo di requisiti prescritti dalla legge. L'uomo ha anche percepito oltre 20.000 euro di fee ovvero commissioni di performance per i risultati conseguiti basati sul rendimento annuo. Il denaro percepito è stato sottoposto a sequestro preventivo come provento del reato.